Ciao a tutti ragazzi, sono Andrew Rozza e bentornati sul canale. Oggi, ragazzi, nuovo episodio della serie One Shot, che vi ricordo essere la serie dove apro un pacchetto, in questo caso, preso in edicola per vedere quello che contiene. Se effettivamente arrivando con un acquisto di, a questo punto facciamo fondamentalmente 16 bustine, quindi ci saranno 16 episodi, noi andiamo a ottenere un buon guadagno fondamentalmente su quello che io vado a prendere in bustina, piuttosto che prendere mezzo box o un box. Quindi, per vedere effettivamente se i pacchetti d'edicola sono convenienti a livello di pratica. Vi ricordo, ragazzi, che se non siete iscritti, iscrivetevi al canale qua in basso a destra. E poi vediamo un pochettino come sarà la situazione, perché continua la Road to 500, ovviamente. Quindi, ragazzi, visto che c'è molta gente che non guarda, cioè che guarda i video, ma non è iscritta, per cui vi chiedo semplicemente di iscrivervi per aiutare il canale a proseguire nella sua corsa. Ovviamente, ragazzi, se ve lo siete perso nel primo episodio, vi lascio tutto nelle schede. Prima di cominciare, ragazzi, con lo spacchettamento, dove comunque analizziamo anche le carte che vado a trovare, vi metto il resoconto classico su quello che è stato il primo episodio, quindi la carta che abbiamo trovato. Vi ricordo, appunto, che contiamo il numero di Olo, V, V, Max, Full Art, Segrete, quelle che ci sono, insomma, su questi 16 pacchetti. Quindi questo è il nuovo cambiamento. E poi vi metto anche il valore totale, fondamentalmente accumulato, che è molto interessante, chiaramente. Mi baso, ovviamente, sul valore attuale della carta, quindi c'è questa stima qua per vedere effettivamente se conviene acquistare di fatto le bustine, può convenire, tra virgolette. Per cui, vedremo alla fine la spesa totale, quindi sarà in quanto avrò speso totale e quanto c'è all'interno delle carte, per scoprire un pochettino queste situazioni. Ora, ragazzi, sigla e vediamo il video. Allora, eccoci qua, ragazzi, con il video. Abbiamo questa bustina, credete, di 6 euro, chiaramente. Presa in dicola. Come al solito, ragazzi, ve la porto in tiera, perché effettivamente l'altra volta l'avevo già aperta e poteva non sembrare un acquisto da edicola, ma magari tipo una che avevo già dentro. Invece, ci tengo effettivamente che voi vediate che effettivamente tutto questo è stato preso dall'edicola. Per cui, solita bustarella, solita quella del GEDIS, quindi comunque dove parla appunto di astri lucenti. Ma questo poco importa. Come vedete, ragazzi, le bustine da edicola hanno prima busta e poi praticamente quest'altra bustina di plastica che è il controllo qualità. Quindi, chiaramente, perché c'erano quelle polemiche su fatto che potevano avere imbustato delle carte fallate, tolta la carta rara e rincollato. Con questo, in teoria, vogliono risolvere la problematica. L'artwork è quello di Charizard, molto bello, ovviamente, sul ripeto del V. Vediamo effettivamente a sto giro che cosa riusciamo a trovare. Si apre, come al solito, molto bene. Come sempre, vi lascio il codice. Per cui, ecco, ve l'ho riscattato che è più veloce. Vediamo 4, 1, 2, quindi siamo qua. Vediamo cosa troviamo oggi. Allora, prima carta che troviamo, ragazzi, il buon Weasel. Weasel, Pokémon d'acqua, molto super ricerchiato, sempre come Pokémon nei team di diamante e perla. Tikka, Mazzu, nell'illustratore. Ovviamente, ragazzi, un artwork comunque che ha un super che è molto bello. Apprezzo molto quelli dove ci sono i Pokémon con uno sfondo ambientale. Poi, passiamo a Gible. Questo, ragazzi, è uno dei miei Pokémon preferiti. Beh, l'illustrazione bella è quella nella cava di carbone. Per cui, fantastico. Anche se, nel senso, è un Pokémon comunque che è molto ricercato nel gioco. E, tra l'altro, bello, ovviamente, per la sua evoluzione finale in Garchomp. Passiamo a Trapinch. Trapinch, in questo caso, è con l'illustrazione classica, quella di Zig, che praticamente sono quelle illustrazioni che sono fatte un po' a stock. O comunque a computer grafica senza particolari qualità. Sì, lascia il tempo che trova, tra virgolette. Troviamo l'ennesimo Castform. Che l'avremmo già visto, oltretutto, c'erano 500.000. Ragazzi, oltretutto, vi ricordo che, come sempre, se volete scambiare con me, vi lascio il link Telegram e anche, ovviamente, il mio contatto Instagram. Per cui, seguitemi e scrivetemi. Di solito scambiare, altrimenti, vendo le carte su Card Market. Vi lascio anche quello tutto in descrizione. Per cui, potete fare gli ordini, eventualmente. Ragazzi, quello che prendo su Card Market lo uso per acquistare carte da insieme alla collezione. Quindi, diciamo che mi aiutate, in tal senso, se le ordinate su Card Market, sul mio profilo. Vediamo Thor, che abbiamo già visto, peraltro, qua la classica energia erba. Abbiamo Clang, che mi sembra... No, ce l'ho anche questo già trovato. A Taya, quindi l'evoluzione di Clink. E poi c'è, ovviamente, il finale, che è Clink-Clank. Quindi, non comune, in questo caso, perché è una fase 1. Non mi dispiace, come artwork. Bello anche il fatto che ci sia sotto... Sia sospeso su uno specchio d'acqua. Si vede un po' riflessa l'immagine. Poi troviamo Gabite, tra l'altro ottimo, perché troviamo Ghibble e Gabite. Anche qua, strano che gli abbia andato. Poi qua, ragazzi, vi segnalo il ritorno del tipo Drago, che è stato tolto e poi è rimesso. Troviamo Torkoal, veramente uno dei Pokémon che meno apprezzo di tutto. Ed è, però, l'artista è la Imena, quindi, che è chiamato Imena, che è sicuramente una delle artiste più particolari. Anche se su questo artwork di Torkoal non mi piace particolarmente. E adesso, ragazzi, iniziano le parti importanti. Troviamo Axie Reverse, che ho già in forma normale. Vi ricordo che io in collezione, ragazzi, metto le forme normali, quindi le reverse, nonostante abbiano un valore un po' più alto, se le vendite io le do via sempre. E ora, ragazzi, è il momento di verificare che cosa contiene. Vediamo. Piano piano. Attenzione, è una rara. Questa, probabilmente, al massimo è olografica. Ah, troviamo, ragazzi, Garchomp, però, Garchomp Polo, bellissima, nel senso che, comunque, ci stava. Perché, effettivamente, avevo sentito un po' qualcosina sotto. Io, veramente, cerco, chiaramente, di non spoilerare molto. Questo, praticamente, non è un pacchettino top, se non che troviamo l'intera linea evolutiva di Gible, che vi faccio apprezzare. Prima, ovviamente, di chiudere, chiaramente, il video. Quindi, una linea evolutiva di Gible, completa con Gible, Gavite e Garchomp. Fantastico. Per cui, ragazzi, aggiungiamo, appunto, una holo che va ad inserirsi. E, chiaramente, a questo punto, poi, nel prossimo episodio, vedremo a che punto siamo arrivati con i valori. Chiaramente, prendo tutto da Card Market, per cui, può anche oscillare il valore, ma io ve lo segno con data odierna dove giro il video. Benissimo, ragazzi, per questo video è tutto. Vi ricordo di lasciare un like e commentare sotto il video se vi piace questa serie, se volete proporre qualcosa. Vi ricordo, inoltre, che continueranno le nuove serie. Quindi, se voi avete una collezione di carte, comunque, figurine, eccetera, me la volete mandare. Io ve la commento e vi do anche le mie opinioni, eventualmente, su quello che può valere circa, sempre, a Spannoni. Come al solito, me lo potete mandare su Instagram. Quindi, mandate il video, venite un minuto e mezzo e vediamo un pochettino. Se avete video un po' più corposi, poi, dopo, ci mettiamo d'accordo lì, comunque, tranquilli. Bene, ragazzi, per questo video è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!